Buonasera amici, questa sera parleremo dell'assegno di mantenimento in sede di separazione. Come sapete la separazione non scioglie il matrimonio come il divorzio, ma lo sospende. Per cui se da una parte viene meno l'obbligo di fedeltà e di coabitazione, di collaborazione, tuttavia il principio dell'articolo 156 parla chiaro. Esiste quindi un diritto del coniuge più debole ad essere mantenuto dal coniuge più ricco e questo perché appunto la separazione è una sorta di appendice di continuazione del matrimonio e quindi si adotta il criterio del tenore di vita. Attenzione, c'è una sentenza molto recente, la 26890 del 2022, che parla quindi del diritto di un marito a ricevere un assegno di mantenimento. Diciamo che soltanto nel 4% dei casi questo avviene, ma questo ha dimostrazione che ovviamente, mi sembra anche logico, la legge non fa distensioni tra mariti e mogli, uomini e donne. Questo avviene anche nelle unioni civili. Chi ha di più versa chi non può mantenersi o comunque ha il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita. Pertanto la Cassazione ha sancito questo principio a favore di un marito che aveva dimostrato che nel corso del matrimonio aveva provveduto alle esigenze del figlio e che a 50 anni aveva perso il lavoro perché i giudici della Corte di Appello avevano ridotto l'assegno iniziale da 1.500 euro a 300 euro, questo signore ha fatto un ricorso in Cassazione. E la Cassazione ha sottolineato che, proprio in virtù dell'articolo 156, l'assegno di 300 euro, così come è quantificato in sede di Appello, non poteva essere sufficiente a mantenere un minimo di decoro e dignità verso un uomo che aveva dimostrato appunto di aver fornito un contributo importante anche alle capacità economiche della moglie che nel caso specifico risultava molto più ricca del marito. Quindi una sentenza importante, una sentenza che non fa altro che confermare un principio, ma che fa capire come i tempi stanno cambiando. Quindi anche le mogli sono costrette, in determinati casi, a mantenere i mariti. Per qualsiasi altro aggiornamento iscrivetevi al canale Studio Legale Cassani e sarete aggiornati quasi quotidianamente su tutte le questioni che riguardano il diritto di famiglia e il diritto penale della famiglia. Alla prossima!